cosa c'è? cosa ha fatto? cosa ha fatto? quello non è un bagno non tira l'acqua non c'è l'acqua lì non c'è acqua lì quella è una cosa un ingresso una finzione e te? tipo teletrasporto e c'è trasporto eccezionale adesso ma perchè ci mette a fare queste cose? c'avevo bisogno ma te sei si con tu capire sono nella televisione e allora lei signor Angioletto giusto? lo zio di Jacopo eh piacere anche lei scusi eh non tirava ma non mi tocca cioè dai e questa è l'officina della pola cacciaviti cose ci avete tu? è l'officina della comicità creiamo comicità e questa trasmissione non dovrà fare? no la stiamo facendo siamo in diretta siamo in diretta è la videolina non ti voglio no la stiamo facendo questo siamo in diretta a me ci sono le telecamere e cosa stai facendo adesso? la trasmissione è l'officina della pola dalla 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 già vi guardo tutti i giorni ah grazie andiamo in onda il lunedì no? eh e poi te non sei davanti con te ma la stiamo facendo la trasmissione siamo adesso in diretta facciamo cose comiche ebbah lei ne sa cos'è? una barzelletta comica eh allora c'è la barzelletta comica c'è la barzelletta comica c'è la barzelletta comica c'è la barzelletta comica e allora che ti ha scissi te no la racconti no la racconti quella di Pierino eh non mi tocchi però signora Gioletta non mi tocchi eh dai che ma cosa stai dicendo? no dai eh che ci viene pieno la maestra no aspetta a scuola la maestra è piena di fare eeeh ah a trovi ciò che non ho eh eeeh 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 mio babbo mangia la minestra eeeh 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 maestra Pierino Pierino a Pierino non si girava eeeh eeeh Pierino eeeh 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 ma si morre mi faccio la finisca questa partelletta eeeh eeeh no dove sta andando signora Gioletto eeeh la partelletta eeeh Pierino è rifatto eeeh eeeh decisi no la chiamata eeeh 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 eeeh